Ci troviamo a Ferrara Sposi, prima tappa del circuito Fiere Sposi, che toccherà anche le città di Verona e Venezia. A tal proposito vi dico le date della prossima tappa del circuito, ossia Verona Sposi, un programma dal 21 al 25 gennaio, in contemporanea con Vivi la Casa, per la sua quarta edizione. Verona Sposi è la tradizionale fiera sugli sposi, dove ogni coppia può trovare tutto il necessario per organizzare al meglio il giorno del matrimonio, fotografi, ristoranti, ville, abiti, per creare quello che sarà il giorno più bello e romantico della propria vita. Se volete maggiori informazioni le potete trovare sul nostro sito internet, veronasposinfiera.it. Vi aspettiamo numerosi, a presto! Grazie a tutti!